Se noi diciamo Maria Madre Nostra non è soltanto in forza delle parole che Gesù morente rivolse a Giovanni sul Calvario e se conta l'interpretazione dei Santi Padri a noi tutti. Ecco tua madre, la maternità di Maria a nostro riguardo si fonda su qualcosa di più profondo. Risale nell'ora benedetta di Nazareth quando Maria col suo umile e generoso Fiat ha offerto liberamente e amorosamente allo Spirito Santo il corpo virginale perché si formasse il corpo al Verbo Eterno. Ricordiamo tutti la pagina del Vangelo quando Maria che stava lì in preghiera o faceva le faccenti di casa arriva l'angelo e gli propone di diventare la madre del Cristo. E dice Fiat sia fatta la tua volontà o padre e in quel Fiat racchiude tutto le sue gioie, le gioie di tenere tra le braccia il figlio di Dio ma anche le sofferenze, l'incomprensione, la mancanza di attenzione di parte del popolo, il vedere il suo figlio da una parte minimamente onorato e dall'altro continuamente rigettato. E lei dice Fiat sia fatta. E avviene l'incarnazione di Cristo ma è proprio in quell'istante nell'incarnazione del figlio suo essendo noi parte integrante della vita di Cristo a divenire anche figli di Maria. Maria portando nel seno Gesù di Nazareth, il piccolo Gesù bambino, portava anche noi in una forma spirituale ma in emprione, già figli di Dio, figlio di Maria. Bella, Maria è la madre nostra sin dal primo istante dell'accettazione della maternità di Dio. Abbiamo così la bellissima espressione di San Pio X che ha espresso questa verità in modo limpito. Nel casto grembo della Vergine dove ha preso la carne mortale, Gesù ha preso anche il corpo spirituale formato da tutti coloro che erano destinati a credere in Lui. E si può dire che Maria portando in seno Gesù vi portava anche tutti coloro la vita dei quali era contenuta nella vita del Salvatore. Dunque tutti noi che uniti a Cristo siamo, come dice l'Apostolo, le membri del suo corpo formate dalla sua carne e dalle sue ossa. dobbiamo considerarci usciti dal grembo della Vergine come un corpo attaccato alla sua testa. E' veramente madre delle membra di Cristo perché cooperò con la carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa i quali di questo capo sono le membra. Bellissimo questo pensiero che ci dimostra come noi siamo stati innestati in Cristo proprio nel seno materno. la corredentrice, Maria non si risparmia, non si risparmia di seguire Gesù, di essere accanto, di fare anche pressione al banchetto delle nozze di Cana e Gesù si rifiuta, non è giunta la mia ora e Maria dice ai servi la sua ora e giunta, riempite le idre di acque e poi attincete e portate a mensa. E Gesù compie il miracolo per obbedire alla mamma sua Maria. Un grande teologo dice Come Cristo ha generato la nuova umanità, quale padre, Maria l'ha generato quale madre. Secondo il piano salvifico di Dio, Maria è il principio materno dell'opera redentrice di Cristo. Questa maternità di Maria, nell'economia della grazia perdura senza sosta, dal momento del consenso prestato nella fede al tempo dell'annunziazione e mantenuto senza esitazione sotto la croce fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti, assunti in cielo, ella non ha deposto questa missione di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci i doni della salvezza eterna. O Maria, grazie per il tuo intervento, grazie della tua maternità, coprici sempre col tuo manto e fa sì che un giorno possiamo godere con te la presenza di Cristo Signore.